I risultati delle elezioni politiche consegnano a Camera e Senato una fotografia in attesa e nuova del voto che si è consumato in Emilia-Romagna. Per la prima volta dal dopoguerra il centro-sinistra è crollato e consegna i seggi al centro-destra, capitanata dalla Lega Nord. Anche il Movimento 5 Stelle riesce a scavalcare il PD, seppur in modo lieve, balzando al 26,9%. Il risultato della Lega in particolare parla da solo dal 2,6% nel 2013. Dal voto di ieri il partito conquista il 19,32% delle preferenze. In particolare tra i nati dalla Lega si confermano Forza Italia al 9,98% dei voti, Fratelli d'Italia con il 3,36% e Noi per l'Italia allo 0,57%. Un totale per la coalizione di centro-destra del 33,08%. Al 30,77% si attesta invece il centro-sinistra, che ha perso circa 10 punti percentuali dal 2013. Poi c'è la lista Bonino, ferma al 3,7%, insieme allo 0,76% e Lorenzine allo 0,55%. Liberi uguali fuori dal PD si attesta 4,43%. Questi dati che parlano di uno scivolone del PD sono supportati da un'affluenza registrata attorno allo 78,21% in Emilia-Romagna, addirittura all'80% a Bologna. Per quanto riguarda gli eletti nei collegi uninominali alla Camera, in particolare vediamo assicurarsi l'elezione Laura Cavandoli della Lega a Parma, con il 35,13% delle preferenze, che la porta in testa anche all'avvocatessa Lucia Annibali del PD, sfigurata con l'acido nel 2013 su mandato dell'ex fidanzato. Al Senato a Parma vittoria risicata per il centro-destra con l'elezione di Maria Saponara della Lega, attestata al 31,88%, davanti a Giorgio Pagliari del PD, fermo al 31,33%. Più staccato Marco Montanari del Movimento 5 Stelle al 27,84%. A Piacenza alla Camera si conferma la grande avanzata di Lega e Movimento 5 Stelle, successo per Tommaso Foti con Fratelli d'Italia, che porta a casa il 47,38% dei voti e torna in Parlamento, seguito da Filippo Ghiggini del Movimento 5 Stelle al 23,22% e da Patrizia Calza del PD, fermo al 21,23%, Liberi Ugualia invece al 3,76%, mentre Casa Pound all'1,24% e Stefania Sartori di Potere al Popolo all'1,02%. Al Senato invece Lega in testa con il successo di Pietro Pisani, che ottiene il 46% davanti al Movimento 5 Stelle, con il 23,77% ottenuto da Pierluigi Baronio. Male andata all'assessore all'ambiente Paola Gazzolo del PD, fermo al 22,06%. Alessandro Ghisoni di Liberi Uguali raggiunge il 3,54%, Massimo Penso di Casa Pound l'1,06%, davanti a Nicoletta Ariosi di Potere al Popolo allo 0,98%. Donatella Maria Giuriola del Partito Comunista allo 0,90%, mentre Giovanni Pietro Zoncati di Forza Nuova allo 0,69%. Centrodestra in ascesa anche a Rimini con Elena Raffaelli della Lega al 35,17%, a Cesena con Simona Vietina di Forza Italia al 32,84%. Il centrosinistra resiste invece a Ravenna con Alberto Pagani al 32,56% e a Forlì con Marco Di Maio al 32,7%. I collegi uninominali al Senato. A Bologna vedono la conferma di Pierferdinando Casini per il centrosinistra col 34,15% dei voti. Alla Camera vanno anche Beatrice Lorenzina a Modena e Graziano del Rio a Reggio Emilia.